L'anno è appena cominciato e si è aperto all'insegna di tutta una serie di lavori fotografici che sto rifiutando. Quindi sono qui oggi a farvi un contenuto per andare a ragionare con voi su quali sono i lavori fotografici che ci conviene prendere, che dobbiamo sempre accettare, e quali sono invece quelli che dobbiamo scartare a prescindere. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, come sapete mi occupo di fotografia e ogni tanto anche di video. Nel contenuto di oggi vado a raccontarvi com'è cominciato l'anno 2024 per il sottoscritto con una serie di lavori, di richieste di lavoro da parte dei clienti che sto rifiutando, che sto quindi declinando con cortesia oppure che sto rimbalzando ad altri colleghi che magari ho conosciuto nel corso degli anni e che sono disponibili a fare un determinato tipo di lavoro laddove a me invece non conviene più. Andremo ad affrontare questo spinoso tema nel corso del video di oggi. Vi ricordo per chi non l'avesse ancora fatto di iscrivervi subito cliccando il bottone qui sotto. Vi ricordo anche che l'algoritmo sta diventando particolarmente cattivo per cui un like a questo video è sicuramente cosa gradita. Partiamo subito a bomba con l'argomento di oggi. Innanzitutto dobbiamo capire una cosa. Perché io rifiuto un lavoro? Possono esserci diversi motivi. Ci sono dei lavori che semplicemente non voglio prendere perché non mi piacciono e questo per esempio vi posso fare il caso specifico dei matrimoni. A me non piacciono i matrimoni. Io non voglio fare matrimoni. Questo per una questione mia personale. Non sto dicendo che sia sbagliato farli. Anzi io diventerei ricco se facessi i matrimoni. Perché comunque sono una di quelle rare occasioni dove il cliente è disposto a spendere anche tanto. Sento di fotografi i miei colleghi che strappano delle cifre veramente molto interessanti. Quindi a me converrebbe fare quella roba lì. Ma io soffro tantissimo il caldo e quindi è proprio una questione mia. Io detesto stare sotto il sole. Non mi piace l'estate. Non mi piace il caldo. Non mi piacciono particolarmente i matrimoni e quindi è proprio un tipo di ingaggio dove io credo di non aver voglia di cimentarmi. Credo inoltre che ci siano altri miei colleghi più bravi di me. Quindi questo è proprio il tipico caso dove io scarico direttamente la palla a qualche mio collega o dei colleghi con cui collaboro abitualmente che sono più bravi di me a fare quella roba lì. Quindi io sto facendo la cosa migliore anche per il cliente. Sto dicendo al cliente guarda io quella roba lì non la faccio. Non la voglio fare. Però ti faccio seguire da uno che è più bravo di me perché fa esattamente quella roba lì. Quindi questo è il caso numero uno. Non mi piace il tipo di lavoro. Non lo voglio fare. Non sono a mio agio. Fa troppo caldo. Non ho voglia. Questo è il primo caso. E questo potrebbe valere anche per le manifestazioni sportive. Molti di voi non lo sapranno ma io cominciai anni fa scattando manifestazioni sportive e mi ricordo che al secondo giorno di lavoro, il secondo, mi ritrovai con il ginocchio nella neve a Borgomanero ore 6 e 30 del mattino a fotografare una maratona di vecchi alpini che, cioè con tutto il rispetto del mondo per gli alpini è assolutamente. Mio nonno era un alpino quindi figuratevi. Però mi sono ritrovato lì alle 6 e 30 di mattina col ginocchio nel ghiaccio a fotografare dei vecchi alpini di 60 anni che correvano nel fango e vi assicuro che mi ha attraversato la mente un pensiero. Mi sono detto io lo sporto nella vita non lo voglio fare. Questa non è la roba che voglio fotografare. Bella manifestazione, loro si sono divertiti, saranno state persone meravigliose. Però non è quello che io volevo fare. E questo ovviamente dipende dall'indole di ciascuno. Ci sono persone che si trovano bene in determinati contesti, in altri no. Quindi io scelgo i lavori che voglio o non voglio seguire molto spesso in base alla tipologia di lavoro, in base a che cosa dovrò effettivamente fare al tipo di ambiente. Quindi questo per me è veramente il primo motivo. Il secondo motivo ovviamente è la retribuzione. E qui vi faccio un altro esempio. A me capita di frequente di collaborare con band musicali. Io ho un passato da musicista, tutto fare in diverse formazioni musicali dove facevo... Vedete quella postazione qui dietro di me? Vedete questa cassa bianca? Questa qui è quello che rimane del mio vecchio studio. Perché questo qui è una postazione che adesso viene utilizzata per fare mixaggio e per fare audio su video. In collaborazione anche con l'amico Davide Scuteri che sicuramente non sta guardando i miei contenuti ma lo salutiamo ugualmente. Sarà a casa sua e vi lascio il link ai suoi lavori qui in descrizione. Lui è il diciamo il fonico che ci aiuta nelle nostre produzioni più importanti. Tutto questo semplicemente per dirvi che una volta mi occupavo di audio e quindi mi sono rimasti molti contatti con i musicisti. Quindi ci sono diversi progetti musicali che si avvalgono della mia collaborazione. Non è una cosa che io cerco. Questo voglio che sia ben chiaro. Quindi se state guardando questo video e avete una band non recepitelo come io sono qui a fare foto per le band. Non è così. Attenzione. Ci sono diverse band, poche in realtà, non tre o quattro, che ho conosciuto nel mio passato di musicista e con cui sto ancora collaborando. Questo per dire cosa? Io collaboro con queste band perché le conosco già. Però il tipo di lavoro che si fa per le band oggi è un tipo di lavoro che io solitamente non accetto. Non accetto perché? Per la retribuzione. Perché? Perché le band ai giorni nostri non è più l'epoca dei Beatles e dei Rolling Stones. Le band non hanno un quattrino bucato da investire e quindi io mi ritrovo a fare un lavoro complesso per una band perché mi trovo magari a gestire l'ideazione dello shooting, set design, trucco e parrucco, trasporto, logistica, regia, tutto quanto, post-produzione delle foto, impaginazione del booklet, creazione delle magliette, le locandine per i concerti, il tutto per, eh però noi vorremmo spendere 20 euro a testa. Questo è un tipo di lavoro dove io sono costretto a dire no. Sono costretto perché se io accetto un lavoro del genere, sto in ballo un mese per un lavoro del genere, me ne esco con 100 euro e ho rinunciato a n altri lavori dove magari mi davano 1000 euro cada uno. Quindi questo è un tipo di lavoro dove io semplicemente lo rifiuto a prescindere perché la retribuzione non è accettabile per me, perché ho delle altre cose che mi fruttano di più e faccio quelle altre cose che magari mi piacciono di meno, eh? Però magari sono cose dove in mezza giornata ho finito, mentre un lavoro per una band musicale lo so già perché ne faccio. Comunque ho quelle band con cui continuo a collaborare e lo so già che un lavoro per una band ti porta via un mese praticamente. Mentre fotografie per un'azienda in mezza giornata te la sei cavata, non ti chiederanno neanche tante correzioni, e ti pagano di più ed è finita lì. Quindi devi anche scegliere i lavori in base alla retribuzione. C'è un altro fattore che mettiamo sul piatto che è ovviamente la distanza. L'anno scorso, nel 2023, mi è capitato di prendere un lavoro dove bisognava realizzare degli scatti in parte a Milano e in parte in altre città d'Italia, una delle quali era a Genova. Per gli scatti di Genova mi sono spostato e sono andato a Genova a fare le foto. Ovviamente c'è un problema nel momento in cui ti dicono guarda noi abbiamo una sede a Milano, una a Genova, una a Roma, una a Napoli e una in Sicilia. Quello è un po' un problema perché a quel punto il preventivo lievita, ovviamente. Cioè se ti avrei chiesto 1000 euro per fare le foto a Milano, ti venivo incontro e facevo 2000 euro per fare le foto a Milano e Genova e ti sto facendo un regalone. Però a questo punto Milano più Genova più Roma più Napoli più la Sicilia, non ti dico che viene fuori 10.000, però siamo lì e quindi a questo punto conviene appoggiarsi a fotografi locali. Quindi bisogna riragionare tutta quanta la faccenda. A quel punto io mi faccio solamente le due tappe vicino a me e poi istruisco i fotografi nelle altre città affinché facciano le foto uguali alle mie. Quindi gli mando lo schema luminoso che ho utilizzato, la strumentazione poco importa. Gli mando lo schema luminoso e uno scatto di prova e siamo tutti quanti in bolla e facciamo le stesse cose in quattro città diverse. Oggi io me la gioco così ed è molto comodo. Qualche anno fa magari la comunicazione non era agevole come oggi, non eravamo tutti digitalizzati, informatizzati e quindi poteva essere un problema una cosa del genere perché con un preventivo del genere molte volte sarai stato io stesso per primo a dire no guarda lasciamo stare perché ti devo fare un preventivo magnum che tanto me lo rifiuti e quindi lasciamo perdere automaticamente. C'è anche da dire che esistono dei casi in cui proprio invece il cliente ti dice guarda io sto cercando un fotografo però io sono di potenza e però la cifra che posso investire è questa. In questi casi caro signore mi spiace ma non sono in linea con la sua richiesta perché se abbiamo 1000 euro da investire però c'è anche lo spostamento a potenza io sono fuori budget ci vorrebbe sì il doppio diciamo una cosa del genere più vitto e alloggio pagato perché comunque una trasferta è anche bella lunga e poi dipende anche dal tipo di lavoro e non lo puoi sbagliare perché non è che puoi dire guarda se viene male torno giù settimana prossima quindi sono lavori impegnativi e con quel tipo di distanza secondo me non è che io li rifiuto perché dico non me ne frega niente chi se ne frega io li prenderei anche però ha delle condizioni ben precise e a quel punto al cliente non conviene al cliente conviene appoggiarsi a un fotografo locale nel posto dove deve essere fatto lo shooting perché comunque io non è che sono l'unico fotografo d'italia e non sono neanche il più bravo d'italia quindi ce n'è sicuramente uno a potenza che sa fare esattamente le stesse cose mie e non ti fa pagare la trasferta voglio mettere in coda due ulteriori tipologie di lavoro che secondo me sono da prendere un pochettino con le pinze e sono i lavori che non ti portano a niente quindi che non ti fanno sviluppare la tua professione e ce ne sono tanti e io lo so benissimo perché prima di diventare fotografo a tutti gli effetti tutti quanti dobbiamo cominciare da qualche parte io mi ricordo quando ho cominciato la miriade di lavori che facevo che non mi portavano a niente che erano lavori del tipo mi aiuti a sviluppare l'immagine della mia azienda ti pago invisibilità mi aiuti a fare le foto dei miei prodotti in cambio te ne regalo due o tre mi aiuti a curare il mio profilo instagram facendomi la selezione iconografica e facendomi due post a settimana in cambio ti do una bottiglia di vino e ti offro una cena è pieno di situazioni di questo tipo soprattutto all'inizio e molto spesso non abbiamo scelta se non quella di accettarne qualcuno di questi lavori perché se non abbiamo portfolio non abbiamo storico non abbiamo clienti pur di dire cominciamo a fare qualcosa ma è giusto è attenzione se io non ho clienti non ho niente è giusto io comincio a fare quelle robe lì perché così a quello che viene dopo posso dire guarda io già lavoro per questo qui gli ho fatto questo questo e quest'altro fammi fare la stessa cosa però a te chiedo dei soldi non glielo diciamo neanche che quell'altro non ci paga ovviamente quell'altro se ne sta approfittando di noi si sta facendo fare delle cose praticamente gratis noi ce ne approfittiamo di lui e diciamo che ci sta pagando il giusto senza senza esagerare e lo usiamo per prendere un cliente invece pagante quindi quelle cose lì si fanno per carità va anche bene bisogna stare attenti bisogna stare attenti perché queste sono sono cose che poi ti ingabbiano sono cose dove la cosa peggiore che può succedere è che ci ritroviamo con tantissimi lavori da fare tutti che non ci pagano tutti che ci pagano invisibilità tutti che ci pagano con un sacchetto di pane tutti che ci pagano con ti offro una pizza e lì diventa un problema perché a un certo punto avremo i clienti che ci tirano per la maglietta che tutti vogliono qualcosa e ci tirano le mani che uno di qui uno di lì e diremo guarda non riesco a farvele con questa velocità le cose a quel punto sapete cosa succede che si arrabbiano con voi perché siete lenti quindi quella è la cosa peggiore che possa succedere non vi stanno pagando vi stanno rendendo la vita impossibile ed è pure colpa vostra da prendere assolutamente con le pinze l'ultimo caso di cui vi voglio parlare oggi e però vi invito a questo punto a lasciarmi sapere nei commenti se ho dimenticato qualcosa o se c'è qualche altro tipo di lavoro che voi rifiutereste a prescindere perché io adesso ne ho messi giù un po però non è che sono tutti sono quelli che sono venuti in mente a me quindi se ve ne vengono in mente altri fatemelo sapere altre tipologie di lavoro che io tendenzialmente rifiuterei sono quelle dove diciamo la mission del cliente è in forte contrasto con la mia vi faccio un esempio su tutti se mi chiedessero di fare delle fotografie per una baleniera per degli arpioni da balena ecco sarei molto combattuto se fargliele oppure no perché è un lavoro quindi è giusto sarebbe giusto farglielo è un cliente come tanti però io non sono d'accordo con quello che fa quel cliente non sono d'accordo poi lo so che con la pesca delle balene magari ci mangiano delle persone quindi so che non gli si può dire non lavorate più e basta è più complicata di così però diciamo che io non sono favorevole con quello che stanno facendo la semplice pesca l'abbattimento di un esemplare non è una cosa che a me piace quindi sarei un po in difficoltà nel decidere di accettare un tipo di lavoro del genere questo poi dipende un po da ognuno di noi come fatto da come sono le sue inclinazioni è perché per esempio io sono molto vicino alle tematiche non animaliste perché gli animalisti ormai è diventato a me sembra sia diventato un po un carrozzone quindi non sono vicino alle tematiche degli animalisti sono vicino agli animali che è un'altra cosa è una cosa completamente diversa quindi laddove mi dicessero che devo lavorare per qualcuno il cui obiettivo la cui mission è far fuori degli animali ecco sarei un pochino combattuto non avrei invece nessun problema se fosse un produttore di armi per esempio che personalmente mi sono dilettato a sparare con le bb gun quando ero giovane e quindi le armi in sé sono oggetti che non mi creano nessun problema quindi questo per farvi capire sono cose complicate dipendono dall'indole di ciascuno magari qualcuno di voi dirà per me il contrario per me gli animali ammazzateli pure però fotografare le pistole che poi danno alla polizia con cui poi magari sparano io quello non lo voglio fare è una cosa che dipende da ciascuno di noi diciamo che secondo me ci sta ogni tanto rifiutare dei lavori se la mission del cliente non è in linea col nostro sentire personale ovviamente ragazzi attenzione tutto questo che vi dico io vi dico ok io sto rifiutando dei clienti ci sta rifiutare dei clienti non vi sto dicendo che dovete rifiutare dei clienti è ben inteso anzi dovete farvi bene il conto sulla vostra di pellaccia io vi dico che a me capita di rifiutare degli ingaggi e quest'anno mi sta capitando di rifiutarne diversi però non vi sto dicendo di fare la stessa cosa vi sto dicendo pensate ci valutate e rifiutate un ingaggio solamente se è il caso non è che dite no rifiuto l'ingaggio perché ferrari ha detto cioè no pensateci bene fatevi i vostri conti perché se io sono alla canna del gas e non ho i soldi per portare avanti la mia attività ma anche semplicemente non ho i soldi per mangiare e a quel punto mi arriva una baleniera che vuole che gli fotografo gli arpioni insanguinati io gli fotografo gli arpioni insanguinati perché non ho scelta quindi se sono in una situazione di bisogno mi tocca prendere anche dei lavori che non mi piacciono io se fossi in una situazione di bisogno prenderei i matrimoni e prenderei le cerimonie e prenderei le manifestazioni sportive per fortuna non sono costretto a farlo perché sto facendo altre cose ma se fossi costretto spero di no le prenderei quindi fate tesoro di quello che vi ho detto cercate di ragionare con la vostra testa cercate di prendere i lavori giusti per voi cercate di prendere i lavori che vi fanno splendere i lavori dove potete dimostrare che avete fatto un buon lavoro e che potete rivendervelo col cliente dopo e ricordatevi di iscrivervi al mio canale per ulteriori consigli e fatemi sapere se ho dimenticato qualche tipologia di lavoro che voi sicuramente rifiutereste come sempre io vi ringrazio per aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video ciao